Marco Scipione, speaker coach aquilano, insegna alle persone come affrontare il pubblico quando bisogna appunto parlare in pubblico. Varie professionalità quindi sono interessate, lei tiene ormai corsi da anni, in particolare ce ne sarà uno quando? Vogliamo dire anche che cosa farete in questo corso. Allora, domani sera alle 19.30 terrò la quarta edizione del percorso Parlare in Pubblico. Io sono un teacher, quindi insegno alle persone a parlare in pubblico ormai da più di dieci anni e ho deciso quattro anni fa di insegnare come si tiene un discorso di fronte ad una platea. Nel corso verranno trattati tanti argomenti dal come destare l'attenzione del pubblico, come gestire soprattutto la paura di parlare in pubblico, come parlare, che cosa dire, andando a curare sia la parte tecnica, la parte comunicativa, ma soprattutto la parte emotiva. Svelando 4-5 tecniche ninja, tra virgolette, su come fare una presentazione ad alto impatto in maniera efficace. Quindi invito la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando a venirmi a conoscere, perché se hai paura di parlare in pubblico, posso essere la persona che è in grado di risolverti questo problema e di metterti nelle migliori condizioni di inviare il tuo messaggio. Ecco, l'appuntamento è a Parrucchiere Academy. Un'ultima nota chiusura. Chi è che partecipa in genere a questi corsi? Dai professionisti agli studenti, tanti studenti universitari mi chiedono informazione, ai professionisti, agli avvocati, a tutte le persone che vogliono migliorarsi e creare relazioni con le persone, venditori, imprenditori, manager. Questa è la mia nicca di clienti che mi chiama e che mi chiede consigli su come fare a parlare in maniera efficace, in pubblico.